Tutte le domeniche fino alla fine di settembre un bus turistico accompagnerà i torinesi alla scoperta del Lago Maggiore. Il nuovo servizio è stato presentato a Torino nei locali dell'assessorato al turismo della regione e vedrà 4 corse domenicali al costo di circa 10 euro a tratta, con orari comodi che consentiranno ai turisti di sfruttare appieno la giornata. Un nuovo bus turistico che partirà ogni domenica da Torino alle ore 8.20 per raggiungere il Lago Maggiore, Arona, Baveno, Stresa oppure Verbagna e poi si rientra in tardo pomeriggio con un prezzo molto popolare perché le andate e ritorno sono 21 euro. Un'offerta turistica veramente vasta, dalle isole Borromeo sul Lago Maggiore, i giardini botanici oppure i meravigliosi hotel da ammirare passeggiando sul lungo lago di Stresa o Verbagna e poi naturalmente tutto l'entroterra con le montagne e le colline, la Val d'Ossola, luogo veramente di natura incontaminata e di sapori enogastronomici incredibili tutti da scoprire oppure il Mottarone e la montagna affacciata sul Lago Maggiore da cui ammirare nelle giornate più serene anche la Madonnina del Duomo di Milano. Il bus turistico sarà integrato anche da una speciale navetta per Macugnaga che a partire da domenica 8 luglio in occasione della 26esima edizione della Fiera di San Bernardo, mostra mercato dell'artigianato alpino e valser, condurrà i turisti da Verbagna fino alla Perla del Monte Rosa. Siamo molto felici che la Regione Piemonte e la provincia del Verbano Cusiossolo abbiano fatto questo sforzo di collegare Torino con il Verbano, appunto, Cusiossolo che è un po' distante da Torino come collegamenti pubblici. E proprio a seguire lo sforzo voluto dalla Regione Piemonte anche il Comune nel suo piccolo ha organizzato un servizio navetta che è prenotabile sul sito del Comune che è Macugnaga Online per collegare i vari punti di arrivo della navetta con Macugnaga che è a circa 50 km da Verbagna. Nell'occasione abbiamo voluto offrire non solo Macugnaga che già di per sé, credetemi, merita di essere visto questo paese valser, ma con l'occasione della Fiera di San Bernardo che è la fiera più importante del nord Italia delle popolazioni valser, è una fiera che ha radici del Medioevo, è una fiera di artigianato tipico della montagna, è una fiera di costumi della montagna e poi ne vedrete delle immagini, è una fiera di sculture del legno dove da un tronco di legno in poche ore fanno delle sculture veramente veramente meravigliose. Per cui l'occasione è anche quella di porre un invito a tutti per raggiungere il Verbano Cusiossola col servizio della Regione Piemonte ma da lì col nostro servizio anche Macugnaga. È una rivisitazione, è una fiera che comincia il venerdì e termina la domenica, ci sono sia scultori che espositori, c'è anche una parte religiosa la domenica con una processione che si porta all'insegna di San Bernardo al vecchio Tiglio, anche un altro simbolo della cultura valser. Si possono acquistare pizzi, si possono acquistare ricami, sculture, lavorazioni di legno, quindi artigianato alpino, artigianato alpino e valser a tutto tondo.